quella che stiamo vedendo è piazza carlo alberto dalla chiesa ci troviamo nel quartiere marina di sotto qui c'è via togliatti dall'altra parte del semaforo il quartiere sant'antonio e poi il piano via dei gasperi la zona centrale di san metto piazza carlo alberto dalla chiesa con l'edificio che ospita i ragazzi della scuola media cursi qualche anno fa questo edificio era appunto il tribunale di san metto poi per una decisione chiamiamola così del governo monti è stato soppresso per risparmiare diciamo qualche qualche euro secondo monti comunque ad ogni modo questa questa centrale di questa piazza perché come vedete è uno spazio molto molto grande molto ben delimitato rispetto all'altra parte della strada non ci sono intersezioni con i veicoli però questo spazio così grande anche non è molto ben fruibile perché mancano degli spazi che possono accogliere appunto persone ragazzi o bambini crediamo che uno spazio così grande qui c'è il monumento dell'artista san mettesi marcello sgattoni in onore appunto al generale caro alberto dalla chiesa ricordiamo ucciso dalla dalla mafia questo spazio andrebbe con un investimento molto relativo andrebbe recuperato e messo a servizio effettivo della comunità anche perché in quest'area non ci sono di fatto aree verdi anzi purtroppo le scelte anche di questa amministrazione continuano a creare cemento in una delle zone più densamente abitate della regione marca e ci riferiamo all'ex scuola cursi si trova qui a poche decine di metri per le note scelte dell'amministrazione piunti assenti ad ogni modo questo spazio andrebbe riqualificato diciamo basterebbe cambiare un po la pavimentazione con qualche albero qualche panchina qualche gioco per i bambini ma che una porticina una un canestro e sarebbe un'area che potrebbe essere fruibile della cittadinanza ricordiamo inoltre che ci troviamo appunto in una zona centrale quindi non sarebbe non rischierebbe mai di diventare uno spazio abbandonato e anche difficilmente preda diciamo di atti di tipo tipistico perché comunque la viabilità qui è sempre sempre elevata e questa proposta la facciamo anche al comitato di quartiere perché ormai da 20 o 30 anni quella quartiere chiede la famosa piazza San Pio X che si trova circa 500 metri da qui una piazza di fronte alla chiesa mai ottenuta però è anche vero bisogna anche ragionare che in quella zona non è una zona densamente abitata come questa è una zona dove la viabilità di fatto si ferma proprio lì e la chiesa ha alle proprie spalle non nel fronte dove dovrebbe essere o vorrebbe vorrebbero i cittadini questa piazza alle proprie spalle un campo da calcio e un'area adibita per spazi ricreativi quindi sarebbe una doppia funzionalità in quella in quella zona mentre qui non c'è assolutamente niente ci sono molte case molte famiglie che avrebbero bisogno magari di uno spazio del genere che al momento appunto è soltanto un'area dove sostanzialmente i ragazzi della scuola corsi entrano ed escono e non è sfruttata per altre vicende dunque una proposta basterebbe un piccolo investimento e tutto sarebbe sarebbe possibile ovviamente queste cose bisogna pensarle e poi prima pensarle e poi approvarle mentre ci sono delle piazze in questa città ci prima piazza montebello che ormai da ne ascoltiamo l'imminente riqualificazione e nessuno è capace sembra che nessuno qui nel comisamento sia capace di farlo nonostante tante promesse un caro saluto da pierpaolo flammini